Oggi è una giornata stupenda, da piena estate, molta gente, sul Conero è uno spasso, qui non è da meno, era da tanto che aspettavamo. Ritornare nel nostro paradiso, insomma, tra Conero e mare, ma poi vedo che la gente comunque mantiene le distanze. Voglia di mare ma con misurato entusiasmo, a piedi passeggiando, in sella ad una bici e scivolato via senza inciampi, il primo sabato da spiagge aperte nel capoluogo regionale. Nessuna sanzione elevata dai vigili urbani di Ancona che in giornata hanno controllato 114 attività commerciali, 11 parchi, 11 spiagge, 8 stabilimenti balneari, tra Palombina, Passetto e Porto Nuovo, dove alcuni ripartono anche con la ristorazione dopo lo stop di quasi tre mesi. È un grande giorno, una sensazione bellissima, finalmente si ritorna a fare quello che abbiamo sempre fatto e speriamo che tutti insieme riusciamo a iniziare una nuova era. Sono molto pochi i tavoli sulla spiaggia perché ancora abbiamo delle cose da chiarire all'interno nostro, però l'importante è che vogliamo partire con calma, con le adeguate misure e poi piano piano troveremo gli spazi giusti per far mangiare a tutti. Esatto. Che riduzione di tavoli stima ha avuto? Ad oggi siamo al 50% netto. Quali aspettative e quali speranze? Siamo sotto al 50% della capienza e l'aspettativa e speranza è che comunque si riparta perché ce n'è bisogno per tutti, anche per i ragazzi che collaborano con noi, però siamo ottimisti, siamo fiduciosi. Lavoro di metro sull'arenile per posizionare gli ombrelloni e aprire ufficialmente la stagione balneare post-covid il prossimo 29 maggio. Questa settimana noi prepareremo tutto, sistemeremo la spiaggia e poi metteremo gli ombrelloni a distanza come c'è scritto nel decreto e niente, però per il 29 siamo pronti. Abbiamo fatto un conto che perlomeno un 20% di sicuro, di meno, di ombrelloni, diciamo una ventina di ombrelloni, 20, 25, 30, adesso bisogna vedere sempre quando abbiamo fatto la spiaggia. Avete già delle prenotazioni? Sì, 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 sì. Diciamo che ci sono le prenotazioni quelle stagionali, gente che chiama. Con queste misure che devono essere rispettate sia da chi comunque sta nello stabilimento balneare ma anche di quelle persone che comunque gireranno così un pochino passeggiando di qua di là avere il giusto rispetto di chi magari ha quello spazio, insomma.